Il programma che segue è stato offerto da Macelleria da Carmine, Macellai dal 1900 Benvenuti all'ennesima puntata della Chiappa Ospede Ormai ho perso il conto da tutti gli ospiti che vengono qui a Telegolfo Per parlare un po' di ciò che fanno Argomenti sempre interessanti Ma questa sera abbiamo in studio Alfredo Cerrito Maestro direttore di orchestra Uno dei più grandi direttori di orchestra di tutti i tempi qui del territorio Perché lui mi sembra che bazzichi la zona di Castelforte Benvenuto Insomma il tuo primo strumento ho saputo che è stato il pianoforte Ma quando è iniziata questa tua esperienza con la musica E da chi si è stato trascinato in questa avventura Intanto grazie mille per avermi invitato Buonasera a tutti I miei genitori avevano notato questa mia passione per la musica Per il canto Cantavo sempre Non facevo altro che cantare e ballare Quindi hanno pensato all'età di 5 anni di portarmi da un insegnante di pianoforte Ad essere franco non è scoccato subito l'amore con questo strumento Però poi ho cambiato aria Sono passato da uno strumento a tastiera a uno strumento a fiato Ho iniziato subito dopo a suonare il sassofono Naturalmente questo sembra che abbiamo finito qui Invece nel frattempo penso che come tutti quanti hai fatto la tua gavetta Avrai suonato in qualche banda locale Assolutamente sì Si può dire qual era questa banda Assolutamente certo Perché ho pensato a un altro tipo di banda Ho fatto parte di diverse bande oltre quelle musicali Invece non c'entra niente Assolutamente No ho iniziato Non c'è assolutamente nulla di brutto Ho iniziato a suonare nella banda di Castelforte E lì mi sono indirizzato appunto verso lo studio del sassofono Quindi il mio primo approccio è stato come quasi tutti i ragazzi Che iniziano a suonare uno strumento a fiato È stato con la banda musicale Attualmente preferisci il sassofono, il pianoforte o la gran cassa Il rullante Perché i ragazzi, ripeto, molto giovani Amano molto le percussioni Insomma deve essere tosta per affezionarsi a un pianoforte Allora io personalmente Poi sono tornato ad amaro il pianoforte In quanto compositore utilizzo il pianoforte per scrivere Anche se devo praticamente quasi tutto al sassofono Con il sassofono ho avuto modo di girare tantissimo Però il pianoforte lo suono Lo suono da compositore Non sono un grande pianista Però lo suono E per quanto riguarda le percussioni Sì Questa è una prerogativa di quasi tutti i bambini I ragazzi La prima espressione è quella fisica Il percussivo Quindi quando arrivano dei bambini Che vogliono iniziare a studiare musica Quando uno chiede Cosa volete suonare? Le percussioni, la batteria In merita è proprio un'espressione intima Della natura umana Subito La prima cosa che si fa Quando si è piccoli Si inizia a tamburellare sugli oggetti Sul proprio corpo E questo è normale Lo facevo pure io da piccolo Sui piatti Mia madre si arrabbiava Perché gliela ammancavo tutti Però E questo, vedi Conferma che Hai centrato bene l'argomento Però tornando al pianoforte Poi Hai incontrato l'anima gemella Una pianista Assolutamente E avete fondato qualcosa di particolare insieme Certo Dici Siamo curiosi di Di sentire Questo due Otto e quindici Perché otto e quindici Due otto e quindici Perché due otto e quindici Io All'epoca suonavo nella Nella banda dell'esercito E Stavo tornando Stavo tornando appunto Con il treno delle otto e un quarto E su questo treno ho incontrato Quella che poi è diventata La mia compagna di vita Ma prima di questo La mia compagna Musicale E Abbiamo iniziato Stiamo parlando di Annalisa Annalisa Giordano Giordano Sì Abbiamo iniziato per gioco Piano Pian pianino Poi abbiamo visto che Un pochettino ci prendavamo Insomma E quindi Abbiamo deciso di portare avanti Questo duo Anche lei di queste parti Lei Lei è nata È nata a Como Nata a Como E poi si è trasferita Per studiare con una grandissima didatta Che purtroppo Ci ha lasciato da poco Il maestro Anna Maria Pennella Una delle più grandi pianiste Di sempre Insieme In questo duo Otto E un quarto Otto e quindici Avete girato Mezzo mondo Cito l'Iraq Ecco proprio Per dire un posto Un po' particolare Dove esibirsi E che ti ha lasciato Sicuramente un bellissimo ricordo Sì Abbiamo Abbiamo girato Abbiamo girato tantissimo Penso di aver girato Con lei Sicuramente Tutta Tutta Europa Poi abbiamo fatto Una tournée bellissima In Vietnam In collaborazione Con Con l'ambasciata italiana In Vietnam Forse il concerto Che Che Più di tutti Ci ha lasciato qualcosa È stato È stato il concerto Al Teatro Nazionale Di Baghdad Per diversi motivi Innanzitutto Perché venivamo Lì Iniziava ad esserci Una situazione particolare Questo nel 2013 Ed era Soprattutto È stato il primo concerto La riapertura Del teatro Dopo Dopo Gli eventi bellici Insomma Abbiamo fatto Prima noi Questo concerto Ci sarebbe dovuto Essere battiato Poi purtroppo A causa Della guerra Civile in Siria Niente Battiato Non è più arrivato Però per noi È stata Un'esperienza fantastica Un popolo straordinario Allora Adesso Non parliamo Di tutti i premi Che hai vinto Perché poi Se no mi sento Un po' a disagio Di avere un personaggio Così Alla mano Ma molto importante Torniamo un po' Indietro nel tempo I tuoi genitori Ti hanno avvicinato Alla mondo della musica Ma Più o meno 25 anni fa Che musica tu ascoltavi O ti facevano ascoltare I tuoi genitori E che ti è rimasto Un po' Di quella musica Forse degli anni 70 80 diciamo Di certo Ascoltavo quella roba lì Ma quella roba lì È detto In senso In senso No no Ma assolutamente Assolutamente Ora Figuriamoci Io amo tutta la musica Dalla musica pop Alla musica Rock Ascolto i Pink Floyd Battiato Morgan Io ascolto di tutto Musica popolare Tantissima Infatti Anche nello scrivere Cerco sempre di inserire Delle influenze Di musica popolare Perché mi piace tantissimo Quindi io Non 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 disperto assolutamente nulla Tuo autore classico preferito Quello che è Una domanda difficilissima Questa Una domanda molto complessa È semplice Ma poi Nel dare la risposta È difficilissima Devo dare per forza Una risposta Però ecco Tu quando poi sali su un palco Dirigi Orchestri importanti Ci sono autori Li scegli tu Poi i pezzi Da dirigere Oppure Dipende Spesso sono le direzioni artistiche Che propongono dei programmi Io di certo Ho una certa Un grande feeling Con autori Come Schumann Ho un grande feeling Con Schumann Perché Il suo modo di scrivere Di orchestrare Di orchestrare È molto L'arte di orchestrare È là È quell'arte Lo dico per chi Non sa questa cosa È l'arte di riuscire A combinare I suoni I colori In orchestra L'orchestra è composta Dall'orchestra Insomma Non sto parlando Di banda Di orchestra sinfonica Di orchestra classica È composta da tanti strumenti Sono gli strumenti ad arco Strumenti a fiato Strumenti a percussione E quindi Il modo di mettere insieme I colori di questi strumenti È l'arte dell'orchestrazione Ecco Detto in poche parole Allora Adesso faccio Un'ennesima domanda Un po' stupida Però Magari dietro Una domanda stupida C'è una risposta importante Ma io certe volte mi chiedo Ma a che serve Un direttore d'orchestra Cioè i maestri Che stanno lì e suonano Hanno bisogno di uno lì Che con la bacchetta Gli faccia quattro Segni strani È fondamentale Che ci sia È assolutamente fondamentale Può essere la cosa più banale Al mondo Dirigere Può andare Può andare lei Che non ha mai diretto Va lì Batte Ti interrompo perché io Anche adesso Ogni tanto Lo dico ormai Mi capita di mettere Una musica Anche di ping E poi dirigere Lo faccio quando sto da solo Mi viene spontaneo Insomma Seguire la musica Però un direttore D'orchestra Penso che sia poi Il punto di riferimento Di tutta Tutta l'ensemble È molto complicata La direzione d'orchestra Nel senso Come dicevo Può essere molto semplice Ci può essere un approccio Molto superficiale La direzione d'orchestra Si va lì Si porta il tempo Le orchestre di professionisti Suonano Non possono suonare benissimo Senza direttore Quello che deve fare Il direttore d'orchestra La prerogativa essenziale È la conoscenza Della composizione Quando un direttore d'orchestra Ha una partitura Deve assolutamente capire Cosa sta succedendo Nella partitura È come vedere Il Duomo di Milano Su carta Uno prende una sinfonia Di Beethoven Ha il Duomo di Milano Quindi bisogna capire La forma La struttura Armonicamente Quello che succede Dove ci sono le tensioni Le risoluzioni E condensare Quello che è il Pensiero del compositore Condensarlo nel gesto Cioè Mi spiego Una frase legata Con un certo tipo di colore Verrà diretta In un certo modo Il bravo direttore d'orchestra È quello che Parlando poco Solo con la gestualità Riesce ad ottenere L'80% Il 90% Dall'orchestra E ci si riesce Ci si riesce È una specie Anche di arrangiamento Del brano Che si sta seguendo È un Esattamente È un'interpretazione È come una torta Che ha bisogno Poi della Ciliegina sopra Perché se no Esattamente È senza personalità Ci sono delle orchestre Che hanno avuto Hanno preso questa decisione Un'orchestra svizzera Tra l'altro Di suonare senza direttore Ma è tutto molto impersonale E lo si sente E la cosa incredibile È che se vado io sul podio Senza parlare L'orchestra è un suono Ci va lei L'orchestra è un altro suono Andiamo in dieci L'orchestra cambia suono all'istante C'è qualcosa di alchemico Qualcosa di Una sorta di empatia con l'orchestra E questo è incredibile Lì stiamo parlando di materiale umano Sono esseri umani Con i loro problemi È bellissima questa cosa È lo stesso brano di Schumann Diretto dallo stesso personaggio In questo caso Il maestro Che abbiamo qui in studio È diversa pure ogni volta l'esecuzione È fatta in momenti diversi Cioè non c'è mai una cosa uguale all'altra Proprio perché Magari anche il tuo stato d'animo Certo Poi c'è andando Andandino Mosso Allegro Con briga Insomma È abbastanza difficile Però Speriamo che tutti i ragazzi Che ci stanno ascoltando Vedendo anche la tua giovanità Si avvicinino Al mondo della musica Perché Senza musica non c'è vita Come si dice Assolutamente vero In molte situazioni E poi Se io ti denomino Il Delta Saxophone Quartet Quartetto importantissimo In Inghilterra Abbiamo fatto Abbiamo collaborato con loro Il mio quartetto Ha collaborato con loro In una prima assoluta mondiale Del compositore Paolo Marzocchi Compositore importantissimo E appunto abbiamo fatto Abbiamo eseguito Eravamo 12 12 assofonisti Queste musiche popolari albanesi Il maestro Marzocchi È stato bellissimo Sono veramente Un'esperienza straordinaria Con loro Quindi assolutamente Tu hai girato Lo ribadisco Anche con il 2 8 e 15 Da per tutto Però Il posto che ti è piaciuto di più Frequentare Anche a livello umano Io spero che la risposta Sia Sia ovvia È il nostro territorio Oppure il mondo Che hai girato Guardi Sono stato fuori Per metà della mia vita Ecco Non dico quanti anni ho Ma bene Però Sei nato Abiti in via Non lo posso non lo diciamo Sono stato fuori tanto tempo Ho girato tanti paesi Ma Da 3 anni e mezzo 4 anni circa Sono ritornato qui Con grandissimo piacere Io amo questo posto E Chiaramente questi posti Poi li si ama Ma una volta che uno va fuori Ritorna E si rende conto Mi apprezza di più Assolutamente Prima non riuscivo nemmeno Non riuscivo ad apprezzare Quello che avevo qui E Ho dovuto fare tutte queste esperienze Per capire poi Che questo posto è straordinario Infatti Sia stato adottato Perché dal 2017 Sei anche il direttore principale Di un'orchestra importante Che è qui nel Golfo di Gaeta Che soddisfazioni Ti dà questa orchestra È formata da giovani Meno giovani Allora è un'orchestra Di tutti Tutti i ragazzi molto giovani Sono tutti Tutti professori d'orchestra Tutti diplomati Qualcuno si sta diplomando In conservatorio E non le nego Che è stato bellissimo Io ho fatto questo primo concerto Qui a Minturno Al Castello Baronale Giugno-Ruglio Non ricordo Dello scorso anno Pensando che Non ci fosse risposta E invece Ci siamo trovati Con una sala Strapiena Abbiamo dovuto mandare la gente Indietro Perché non c'era più posto L'orchestra è composta Da tutti i giovani Abbiamo fatto un programma Molto impegnativo La gente ha risposto benissimo Io non me lo sarei mai aspettato Ma non solo io Nemmeno le persone A cui avevo proposto questa cosa Siamo rimasti scommolti Dalla risposta del pubblico Ma infatti Bisognerebbe farlo più spesso Anche all'aperto Perché io approfitto Delle varie feste Ecco che nel periodo estivo ci sono Senza fare nomi Preferisco andarmi a sedere E sentire una bella orchestra sinfonica Che ti fa le più belle arie Del mondo musicale classico Va bene Lanciamo pure quest'idea Magari qui Nella zona del golfo No io devo dire Guardi Devo dire che L'amministrazione comunale E' molto sensibile a questa cosa Quale? Qui a Minturno Ah bene Perché Ora stiamo cercando Il mio obiettivo è di creare Un'orchestra stabile Di fare una stagione sinfonica Il prossimo concerto lo avremo Non è stato ancora pubblicizzato Ma ci sarà il 22 di giugno Quindi faremo questo concerto Al castello Baronale Faremo un po' di musica da film Musica Ci saranno delle cose di Mozart Di Mendelsso Ma ci sarà anche musica da film Quindi un po' per tutti i gusti E il mio obiettivo è Quello di rendere questa orchestra stabile Di fare una stagione Di 4-5 concerti l'anno E soprattutto portare Una grande orchestra Di 45-50 elementi Al teatro romano Io già quest'anno Avrei voluto portare Avrei voluto portare Morgan Che cantava De André Con l'orchestra Con una grande orchestra Purtroppo non è stato possibile Per problemi logistici Del teatro Ma sono sicuro Che riusciremo a farlo Va bene Anche perché tu poi collabori Anche con l'Accademia musicale Del Basso Lazio Che è sede a Formia Dunque Ormai si è addentrato A 360 gradi Però Mi fa piacere Averti avuto qui In studio Perché Parli di questa cosa Che oltre a una questione lavorativa È una questione di Ormai Fai parte della musica La tua passione per la musica Penso che sia totale Supportata anche Da Dalla tua metà Ricordo Annalisa Giordano Che So che ti tiene in riga Perché Ogni tanto C'era scritto No Mi ho chiesto in giro Perché tu ogni tanto Vai un po' più sulla musica rock Un po' più No però mi deve tenere in riga Per altre cose Ah ho capito No 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 Mi deve tenere in riga Perché io poi divago Con la mente Faccio Va bene Ma questo per dire Che anche un importante Direttore d'orchestra Ripeto Nonostante la tua giovanità Siamo tutti quanti Persone che viviamo la vita In modo totale Allora Non so se Per contattarti Magari uno che si vuole avvicinare Chiedere qualche consiglio Come deve fare per trovarti Allora Guardi Noi Noi Io sto Sto praticamente C'è il mio La mia pagina Facebook Basta inserire Alfredo Cerrito Viene fuori là La pagina Facebook Ma Ma se si mette il mio nome sul web Insomma Ci sono poi i contatti In modo di contatto In tutti i sensi Poi Stiamo Stiamo lavorando bene Lavorando bene Con un bel gruppo di bambini Stiamo cercando di creare Un bel bacino Appunto a Penitro Con l'Accademia del Basso Lazio E L'obiettivo è quello di creare Una classe di Di musicisti Di bambini Che poi Possano Possano fare delle cose Delle cose interessanti In futuro Io credo che ci stiamo riuscendo Io lo dicevo pure In un'altra occasione Magari Spingere i genitori A portare i propri bambini Verso la musica Invece che In alcuni sport Dove Tipo il calcio Poi tutti diventiamo maratona Tutti difendiamo questi figli Invece magari Diamogli una base Culturale Musicale Chi vuole fare teatro Faccia teatro La musica è fondamentale Proprio per Per farti crescere meglio A tutti i livelli Allora Prima di concludere Questa nostra Chiacchiera informale L'unica cosa che non mi è piaciuta Di te Lo devo dire È che mi ha dato Ribadendo la mia L'abitudine Allora scusami Giovanni Grazie È recuperato Da grande artista Che sei È recuperato In finale E Prima di salutarti Lancia un messaggio Proprio per Per le famiglie Per i ragazzi Ad avvicinarsi Al mondo della musica E magari Puoi diventare anche importante Certo Quello che posso dire È È di portare i bambini A teatro Far ascoltare musica Qualsiasi tipo di musica Che sia musica classica Che sia musica rock Far ascoltare il più possibile Fondamentale L'ascolto della musica Nei primi tre anni di vita Per una questione Di sviluppo dell'orecchio Per una questione Di sviluppo cerebrale Un bambino Che Arrivato ai tre anni Ha ascoltato di tutto Musica jazz Musica classica Sicuramente un bambino Più aperto Più aperto All'ascolto Ma non solo musicale Ed anche più veloce Nella risoluzione Di tanti problemi È fondamentale La musica È fondamentale E se possibile Se si hanno le possibilità Portare i propri figli A teatro Appunto Ad imparare uno strumento Perché la cosa importante È creare Un bacino Creare Un gruppo Insomma Importante Sti bambini Devono crescere con l'arte Che sia la musica Il teatro Sicuramente crescono meglio Crescono sicuramente meglio Perché poi allontana Da tante altre cose Si crea un gruppo Si è un bello spirito E poi se vogliono fare sport Facessero anche sport Uno può fare sport E può fare anche musica Ma magari ecco Partecipando a questi corsi musicali Può uscire fuori un gruppo Una band Rock, jazz Un quartetto Un duo Come 8 e 15 Assolutamente Cioè ci sono tante opportunità E poi penso che Io da profano La musica È anche un modo Di sfogare Le proprie ansie I propri problemi Aiuta tantissimo Guarda Giovanni Io tutti i bambini Che ho Bambini Adulti Non c'è stato uno Che ha lasciato Ma perché Che poi si appassionano Io a un certo punto Li faccio suonare insieme Crevo dei piccoli gruppi Faccio fare musica insieme Si appassionano Si appassionano tantissimo E quindi Niente Il trucco Sta nel farli appassionare Allora E così in sottovoce Come il maestro Fede Cerrito Ha concluso Questa nostra Ghiacchierata Io lo ringrazio Lo invito ancora in studio Quando vorrà Dirci qualcos'altro O presentare i suoi prossimi impegni Ringrazio tutti gli ascoltatori Do appuntamento Alla prossima Settimana E saluto tutti Con il nostro motto Che state buoni Se potete Alla prossima Il programma che avete seguito È stato offerto da Macelleria da Carmine Macellai Dal 1900 Il programma che avete seguito 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 Il programma che avete seguito